Come al solito focus di mattina sud anche sui temi importanti del lavoro, abbiamo parlato di una bella notizia che è quella di questo corso per meccatronici, ma a Taranto ci sono anche una serie di problematiche, ma vogliamo capire anche quali sono le prospettive, perché possono essere buone per il settore delle poste, in particolare le poste italiane. Grazie a Giuseppe Manfuso che è il nuovo segretario generale di Will Poste Taranto, buongiorno. Grazie a voi per avermi spiegato. Buongiorno, grazie della sua presenza. Ci sono dei movimenti in corso in poste italiane, proprio dalla segreteria nazionale si è deciso di ripartire anche nel Tarantino con il suo arrivo, tra l'altro c'è stata una bella adesione, che momento è per poste italiane, ma anche specificamente per l'area ionica, perché si parla anche di una possibile privatizzazione, che cosa ci puoi riferire su questo? Allora, iniziamo a parlare da quello che è successo a me un po' all'interno del sindacato. Io ero arrivato in CISL ad essere segretario nazionale della CISL Poste, siccome poi politicamente non mi ci ritrovavo più in quelle che erano le idee di quel sindacato, ho deciso di ripartire e fortunatamente ho trovato, quelle che potessero essere più vicine alle mie idee, il percorso che sto facendo oggi in Will Poste. Da subito è capitata l'occasione di poter assumere l'incarico di segretario provinciale e quindi di mettere la mia esperienza nazionale a disposizione proprio della nostra terra. Che situazione hai trovato nel Tarantino? Perché prima si occupava di territorio nazionale. La situazione tarantina è abbastanza particolare, proprio dovuta un po' al terremoto che c'è stato nel mio passaggio di sindacato, perché non è stato un qualcosa senza strascichi. La prima cosa che mi è saltata all'occhio è che oggi a Tarantino purtroppo siamo costretti ad avere a che fare con una dirigenza che in passato era abituata a dialogare con le parti sociali, che a seguito di questo terremoto non lo è più e questo crea parecchi scompensi e parecchi danni proprio ai lavoratori. Perché quando non c'è dialogo, Anno, quante volte l'abbiamo detto, è importantissimo. Sì, può sembrare una frase fatta, però stranamente si verifica... Nelle coppie, nei matrimoni, così come nelle aziende, no? Esatto, nelle relazioni umane, in quelle piccole, in quelle grandi, come in questo caso parliamo di poste italiane, insomma immagino che la situazione di Tarantino vada ad inserirsi in un contesto che poi non è molto diverso anche a livello nazionale, a meno che non sia un unicum. Quindi questa mancanza di dialogo che poi penalizza dal punto di vista umano, da un punto di vista occupazionale anche, dell'efficienza del servizio reso soprattutto agli utenti. Infatti, anche perché oggi ci troviamo a trattare macro problemi come quello di una probabile privatizzazione di poste italiane, nel mentre stiamo discutendo a Roma il rinnovo contrattuale, quindi diciamo che il periodo non è tanto semplice e questo scossone sindacale che c'è stato non aiuta le varie trattative che oggi abbiamo. Quelli bravi, Anna, dicono che questo è un momento congiunturale, è vero, si usava più spesso sulla carta stampata, soprattutto queste espressioni, i nostri colleghi. E allora, come fanno, come dire, sempre quelli bravi? Sempre quelli bravi, copiamo da quelli bravi. Eh sì, così non ci sbagliamo. Partiamo dall'inizio, Giuseppe, Giuseppe Manfuso. Primo aspetto, privatizzazione. La posizione della Will qual è? Poi andiamo a vedere il nuovo contratto, che cosa ci dite, ma intanto privatizzazione. Allora, a distanza di dieci anni dall'ultima tranche di privatizzazione di poste italiane, il governo con l'ultimo DPCM, il numero 136 di febbraio 2024, parla di mettere sul mercato una nuova fetta considerevole di azioni di poste italiane. Diciamo che nonostante le promesse fatte in campagna elettorale e anche dal nostro Presidente del Consiglio di sostenere e di cercare di far mantenere allo Stato la maggioranza delle azioni per far sì che poste italiane resti un'azienda in mano al governo, allo Stato. Anche perché poi ci siamo quasi venduti tutti, insomma. Allo Stato, in realtà, c'è stata qualche dichiarazione favorevole, ma questo DPCM resta ancora in piedi e nel DPCM si parla di una dismissione di un 35% di quote, che in realtà se dovesse avvenire così come è scritto non sarebbe più lo Stato l'azionista di maggioranza di poste italiane. Questo creerebbe grossi scompensi per quanto riguarda la nostra azienda, perché se oggi riusciamo come azienda a garantire l'ufficio postale e il portalettere anche in quei luoghi un po' più sconosciuti, dove in realtà sarebbe improduttivo mantenere un ufficio postale o un punto di recapito, va da sé che se l'azienda dovesse essere privatizzata guardando solo agli utili, il privato andrebbe a tagliare ancora di più di quello che sta avvenendo in questi ultimi anni. Consideriamo che oggi in mano pubblica dal 2017 al 2023 poste italiane ha perso già circa 19 mila posti di lavoro, quindi comunque già c'è una sorta di riorganizzazione all'interno della nostra azienda, ma cosa che potrebbe aggravarsi ancora di più se dovesse passare in mano privata. C'è una prospettiva non proprio rossa, mi sembra di capire, e anche la valutazione della will non è proprio favorevole. Noi siamo contrari a qualsiasi forma di privatizzazione, anche qualora si dovesse decidere di venderne soltanto una parte per far restare lo Stato azionista di maggioranza. Si rischia di perdere altri posti di lavoro. Ma a parte quello, ci sono due motivazioni alla fine che ci fanno prendere questa linea politica. La prima è di natura economica, perché da uno studio della nostra segreteria generale, a fronte degli utili che vengono dichiarati e dei dividendi poi che finiscono nelle case dello Stato, abbiamo calcolato che più o meno in 7 anni poste andrebbe a guadagnare la stessa cifra che guadagnerebbe vendendo le quote di posti italiani. E l'altra, come dicevo prima, è appunto sociale, perché la nostra è un'azienda presente su tutto il territorio. Vogliamo far sì che questa cosa venga garantita anche in futuro, perché noi siamo l'azienda del Paese, quindi dobbiamo essere il punto di riferimento in ogni dove. Basti pensare che ovunque vai trovi sicuramente la caserma dei Carabinieri e l'ufficio delle poste. Quindi noi ci teniamo affinché per i cittadini italiani questo possa rimanere invariato e in più Poste Italiane è la cassaforte dei dati sensibili di ogni cittadino. Ma ve lo immaginate cosa potrebbe succedere se un privato ci mette le mani? Ecco, questi sono aspetti che non sono l'immediata acquisizione, quindi benvengano anche approfondimenti di questo tipo per sottolineare quello che nell'immediato sfugge. Esatto. Perché magari in questo momento ci poniamo altri problemi, anche quello che può essere lo stato d'animo dei dipendenti in questo momento di Poste Italiane, non quelli che sono ad un passo dalla quiescenza, dal pensionamento, ma tutti gli altri. Però poi ci sono anche queste altre questioni che non sono meno importanti, soprattutto in un periodo in cui con i dati dobbiamo stare attenti, se riusciamo, perché poi siamo noi che molto spesso ci mettiamo in pasto all'avvoltoio. È vero, è vero. Poi questo è anche il problema del non seguire più la politica, di non seguire più il sindacato, perché poi è facile fare populismo, ma io sono fermamente convinto che attraverso la nostra partecipazione molto probabilmente riusciremo a migliorare tanto di quello che oggi non va nel nostro paese, nella nostra regione e nella nostra provincia. A proposito del nuovo contratto, c'è una bozza che sembra soddisfarvi? C'è da aggiungere qualcosa? A che punto siamo anche per far sì che entri in vigore in qualche modo? Allora, considera che Poste Italiane è una delle poche aziende ormai rimasta molto sindacalizzata, perché quasi tutti i dipendenti di Poste Italiane sono iscritti ad almeno un sindacato. Questa è una fortuna che fa sì che il contratto nazionale già in essere di Poste Italiane possa già sembrare perfetto così. In realtà in questa fase di rinnovo sulla parte normativa c'è da cambiare ben poco, infatti stiamo andando abbastanza spediti e crediamo di concludere la trattativa anche abbastanza velocemente. Entro qualche mese o due? Speriamo di farcela per la metà dell'estate, prima della chiusura estiva, ovviamente c'è da da accordarsi sulla parte economica. Dicevo, sulla parte normativa qualche piccola modifica va fatta per l'introduzione delle nuove leggi sfornate in questo triennio da quando è stato concepito lo scorso contratto nazionale, mentre la vera partita, come dicevo prima, si gioca sulla parte economica. Su questo io vorrei rassicurare un po' i lavoratori di Poste Italiane perché come Will Poste la nostra trattativa non si concluderà per nessuna ragione al di sotto di una cifra che possa essere vicina ai 200 Euro di aumento. Ovviamente poi ci sarà da incastrare su quale percentuale sarà destinata ai minimi tabellari e su quale cifra verrà inserita in tutto ciò che ruota intorno ad uno stipendio, però crediamo che superare la soglia dei 200 Euro possa essere ragionevole sia dal punto di vista sindacale ma credo anche sostenibile da parte aziendale visti gli utili che ogni anno Poste Italiane ci regala. chiaro, chiarissimo. Allora Gianmarco. Insomma siamo quasi in chiusura però ci faceva piacere oggi fare un approfondimento su questo, il momento come abbiamo detto è assolutamente complesso. Prima di chiudere però abbiamo ancora tempo per affrontare un altro tema, io non so se ce ne sono ma per questo lo chiedo subito al nostro ospite. Tanti appunti il nostro ospite, quindi se c'è qualche aspetto. Oltre ad essere preparato c'è anche gli appunti, giustamente. Non sono abituato. Alla tv, però questo lo capiamo, però è importante anche comunicare determinate cose. A proposito di vertenze, a che punto siamo? Nel Tarantino ci sono situazioni che devono preoccuparci o siamo tranquilli? La mia più grande preoccupazione è quello di cui parlavo prima, la destabilizzazione della dirigenza territoriale su quello che è successo. Ecco, a proposito di questo, lì ha costituito una nuova squadra sul territorio di Tarantino, no? Sì. Posti Italiane è un'azienda non semplice da seguire a livello sindacale perché abbiamo uffici postali sparsi in ogni parte della provincia, spesso uffici postali anche con una sola persona all'interno. Intanto la sedia, tra poco, tra poco. Ecco, lo stavo per dire, sì. Ti metti di spalle. Andrebbe bloccata. È uno scherzo che fa agli ospiti lo scabello, non si preoccupi. Soprattutto ai novelli, diciamo. Quindi era necessario costituire una squadra numerosa e così ho fatto. Ho distribuito incarichi sindacali un po' per tutta la provincia. Oggi riusciamo a coprire tutta la provincia a partire da Avetrana fino a Ginosa e questo fa sì che per me avere tante sentinelle sparse sul territorio mi dà la possibilità di avere il polso della situazione quasi in tempo reale. Poi un occhio ovunque, no? Problemi, potenzialità anche perché non parliamo solo di problemi. Comunque sono aziende che lavorano tanto e ci garantiscono tanti servizi. Io voglio concludere con una domanda. Lei prima parlava di rassicurazioni dal punto di vista economico per i dipendenti di poste italiane che stanno vivendo questo periodo di incertezza. Ci sono altre rassicurazioni che secondo lei devono essere date e dovrebbero essere date ai dipendenti che in questo momento si chiedono lavoro nel pubblico e domani potrei lavorare nel privato. Per esempio sul benessere nei posti di lavoro. Io di questo non sento mai parlare. Però credo che sia un aspetto importante. Quando si è nel pubblico, ok, quando si è nel privato. Credo che ci siano diverse rassicurazioni. Non possiamo, almeno io da lavoratrice, tengo in considerazione l'aspetto economico, ma non solo. Non so se ho reso l'idea. In posti italiane, al di là del fatto che non siamo ancora privati, queste sono cose che già viviamo. Perché poste è un carrozzone così enorme che quando c'è da fare una piccola riparazione, un piccolo guasto, un condizionatore che si rompe, passano mesi prima che possa essere riparato. Ma non per una questione di mancanza di fondi, ma perché purtroppo c'è una burocrazia tale dietro che non consente di effettuare spese last minute che consentano una riparazione. Quindi gli imprevisti è la cosa che più temete. Diciamo che a fronte di quello che già accade in posti italiane, la paura più grande è solo quella della perdita di posti di lavoro, che mentre fino ad oggi siamo riusciti a gestire, perché magari accompagnando la gente con esodi incentivati oppure con l'arrivo dell'età pensionabile siamo riusciti a gestire, riassumendo soltanto una percentuale della gente che è uscita via. Quindi queste 19 mila persone negli ultimi anni che abbiamo perso siamo riusciti in realtà a non farle pesare. Però è anche vero che poi all'interno degli uffici vediamo sempre meno gente e questo crea degli squilibri alla gente che cerca di andare ad usufruire dei nostri servizi. Quindi in realtà abbiamo gli occhi un po' ovunque. Quindi ci sono più battaglie su cui stiamo cercando di dedicarci. Grazie a Giuseppe Manfuso, il segretario generale di WePost e Taranto. Ma fuori dal lavoro, dalle ore lavorative, chiudiamo così. Fate anche qualche partita di calcetto? Facciamo questa domanda, chiudiamo con una battuta perché Manfuso è anche un appassionato di calcio, segue dei ragazzi anche che fanno calcetto, è vero? Sì, io ho fondato una scuola calcio a Taranto per cercare di dare un po' di gioia ai bambini della nostra città. Ho cercato di creare qualcosa di diverso da quello che esiste già senza pensare alle vittorie, senza pensare... Ma c'è la squadra poste italiane? Eh certo. Allora considera che il sindacato in poste italiane è molto sentito, quindi in realtà abbiamo fatto da poco un torneo come Enti e abbiamo cercato di metterci tutti quanti insieme, ma adesso che sono in questo nuovo sindacato sto cercando di mettere su anche la squadra tarantina della WePost. Controfficio Taranto 1, Controfficio Taranto 2, no? Esatto, esatto. Grazie, grazie a Manfuso. Grazie.